Ciao a tutti, siamo qua in compagnia di Big Girl Suami, campionessa messicana italiana e metà italiana e metà messicana, però vive in Messico, a Playa del Carmen e ha già vinto diversi campionati come Big Girl Under 15. È stata a Los Angeles alle finali mondiali di Big Girl, deve fare adesso una prossima battle, dove la devi fare Suami? In Mazatlan. In Mazatlan e che cos'è? È una gara di breakdance e ho vinto nella città del Messico Kill the Beat e per aver vinto Kill the Beat vado direttamente ai top 8 di Kids Contra Kids. Perfetto, perfetto, ha un talento questa ragazzina balla da quando aveva, già quanti anni avevi quando hai iniziato a ballare? Sette anni. Sette anni ed è un fenomeno, adesso poi vi faremo vedere un video dove appunto si vedono tutte le acrobazie, stiamo migliorando perché andiamo ad allenarci spesso e adesso appunto stiamo diventando anche più grandini e quindi acquistiamo sia capacità diciamo tecnica che anche sensualità perché comunque è una bellissima ragazzina. E per quanto riguarda i futuri progetti, qual è il tuo sogno Suami? Adesso il mio sogno è andare all'olimpiade. L'olimpiade di breakdance perché noi tutti sanno che da quest'anno la breakdance è nelle olimpiadi mondiali, quindi noi andremo a rappresentare il Messico o l'Italia. Il Messico perché voglio portare sul nome di Messico. Il nome del Messico, esatto. Ok? Saluta il Messicano. Adios. Buongior gusto. Buongior gusto. Seguiteci su Instagram, la sua pagina è BiggerSwami, esatto, e anche su Facebook abbiamo appunto la pagina. Abbiamo anche un canale YouTube che nessuno ci segue, quindi seguiteci su YouTube BiggerSwami. O buongiorno siamo a tutti uguali Assai! Intendolo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.